Buon pomeriggio, sono Giannata Puglia e sono l'amministratore delegato di Lispace, una start-up, un'azienda nata nel 2014 con l'obiettivo di semplificare un po' quello che è l'accesso ai dati spaziali. Ringrazio molto Monica perché ha fatto un'introduzione davvero dettagliata e precisa su quello che sta succedendo nel mondo spaziale, quindi tutto il trend New Space, il trend Space to Point Zero, eccetera, ed è quello che anche noi abbiamo cercato di inglobare nella nostra attività e prendere anche come spunto. Oggi vorrei dedicare la presentazione a un argomento un po' più dettagliato, più preciso rispetto a quelli che ha esplicitato Monica, che è il monitoraggio real-time della Terra, che non significa solo immagini, ma anche dati di altro tipo. In particolare vorrei partire da un paio di immagini che sono di due aziende molto importanti del settore New Space, che sono Planet, ex Planet Labs. Questa è un'immagine diamatrice del terremoto dell'anno scorso, che appunto fa vedere a destra e sinistra a differenza del paesaggio della città prima e dopo il terremoto. E invece questa è un'immagine di Spire, che si occupa di remote sensing, che appunto traccia, si occupa una delle applicazioni che può appunto aiutare sicuramente il tracking navale. Quindi andare a tracciare questa è una zona orientale dell'Africa, può andare a traccare le navi che normalmente non possono essere traccate, perché fanno operazioni di tipo illegale, come la pesca illegale, piuttosto che pulizie delle stive, piuttosto che altre attività di tipo illegale e quindi non sono tracciabili con i sistemi tradizionali. E mi ricollego ai microsatelliti sicuramente. I microsatelliti sono i satelliti di cui parlava Monica prima. Praticamente è la rivoluzione che sta avvenendo in questi anni, a partire dal 2012, anche se appunto l'introduzione dei microsatelliti è anche più vecchia. E queste appunto sono le tre aziende, le due aziende di cui ho parlato prima, più satellogiche, che è un'altra azienda che si occupa invece di monitoraggio della Terra tramite immagini del globo. Tutti questi progetti sono dedicati all'immissione in orbita di costellazioni di microsatelliti di questo genere che appunto riducono di moltissimo il budget necessario per fare attività spaziale e avvantaggiano moltissimo invece la popolazione. Questo è un grafico che fa un po' capire quello che è successo negli scorsi anni e quello che succederà nei prossimi anni. Appunto è un mercato scoppiato nel 2012 che ha avuto un piccolo decremento l'anno scorso, negli ultimi due anni, perché ci sono stati alcuni problemi con i lanci. In particolare sono esplosi due lanciatori che trasportavano microsatelliti che da un certo punto di vista ovviamente sono andati persi come tecnologia, come immissioni in orbita di questa nuova tecnologia. Dall'altro punto di vista però hanno dimostrato una cosa importante. In particolare su uno dei lanciatori che è esploso erano presenti una cinquantina di microsatelliti, di planet. Questi microsatelliti sono talmente a basso costo che sono stati rifatti immediatamente, sono stati lanciati con il lancio successivo. Quindi questo dimostra moltissimo quello che è la tecnologia spaziale del New Space. Precedentemente ovviamente se un satellite veniva, una missione partiva e esplodeva il lanciatore, purtroppo quel satellite finiva la missione di quel satellite. Attualmente invece non è più così, anche perché i satelliti non sono più customizzati, ma sono prodotti in serie. Nel 2000, queste sono le proiezioni di alcune analisi di mercato, nel 2000 si stima che saranno in orbita più di 2000 microsatelliti, i numeri sono leggermente diversi da quelli di Monica, ma perché è una classe più ampia di quella di cui parlava Monica, quindi una classe degli smallsats, qui invece stiamo parlando di microsatelliti, che sono una classe un po' più ridotta e a cui noi ci riferiamo. Si parla di un valore di mercato di circa 2,4 miliardi di dollari nel 2020. Quindi un vero e proprio mercato che è a sé stante. Due vantaggi principali già detti. Il costo, ovviamente, se parliamo di immagini della Terra, si passa da tecnologia satellitare standard, dove un'immagine può costare centinaia di dollari a metro quadro, alla tecnologia microsatellitare in cui l'immagine costa anche pochi dollari, quindi un fattore 100 o addirittura 1000 del costo dell'immagine. E l'altra cosa importante, l'altro fattore molto importante, è sicuramente il tempo di aggiornamento. Quindi il tempo di aggiornamento dell'immagine, ovviamente. Questo perché, se parliamo di tecnologia satellitare standard, di solito venivano immesse in orbita pochissime unità satellitari, se non addirittura una sola unità satellitare. Parlando invece oggi di costellazioni, effettivamente può essere ripreso un punto della Terra, un'area geografica della Terra, a pochi minuti di spazio temporale, un'immagine dall'altra. E quindi sicuramente l'aggiornamento quasi real time della situazione. C'è un piccolo problema, anche in questo caso. Tutti questi dati che vengono prodotti da queste costellazioni enormi di microsatelliti, in qualche modo devono arrivare a Terra. Perché altrimenti queste immagini, questi dati di remote sensing, tutte le altre applicazioni, tutte le altre tecnologie che possono essere immesse in orbita tramite microsatelliti, hanno poco senso. Effettivamente oggi manca, c'è un collo di bottiglia, in quello che si chiama segmento di Terra. Quindi quella tecnologia che permette ai dati, quindi all'immagine catturata da satelliti in orbita, di essere trasferita a Terra. E quindi questo è il problema da cui noi siamo partiti. Questo è un grafico che vuol far vedere appunto l'enorme sviluppo della tecnologia spaziale che è assolutamente pronta a offrire servizi di osservazione della Terra real time. E però di sotto, quindi la riga tratteggiata, è invece quello che è lo sviluppo del segmento di Terra. Quindi assolutamente inadeguato. Si sta sviluppando pian piano, ma in modo non efficiente, non utile allo sviluppo e all'utilizzo di quei dati che vengono prodotti nei microsatelliti. E qui arriviamo con l'Espace, in particolare col progetto LeafLine. Si tratta di un servizio, direi il primo servizio, di telecomunicazione dedicato a questa classe di satelliti che sono i microsatelliti. E il cuore del progetto è l'implementazione, quindi l'installazione a livello mondiale, di un network di 20 antenne. Vi faccio capire un po' come funziona. Praticamente nella... Attualmente abbiamo inventato quattro di queste antenne nel territorio europeo. Quindi la prima è stata implementata vicino a Milano, una in Lituania, una in Spagna, e l'ultima che è in fase di implementazione, in realtà a fine maggio sarà implementata in Irlanda. Queste antenne vengono remotizzate, quindi vengono controllate dal nostro centro di controllo a Milano. e queste antenne vengono utilizzate per più clienti in diverso modo. Quindi vengono, per esempio, offerti, si parla di passaggi del satellite sulla Terra, e vengono scaricati i dati utilizzando diverse antenne per lo stesso cliente. Quindi c'è un doppio aumento dell'efficienza. In particolare queste sono due immagini. Questa è l'implementazione che abbiamo fatto in Lituania, questo l'anno scorso, la fine dell'anno scorso. E invece questa immagine è riferita all'implementazione che abbiamo fatto in Spagna invece questa primavera. Quindi queste sono le nostre antenne. Successivamente il nostro piano prevede di implementare altre quattro antenne uscendo dal continente europeo, una è in Islanda, anche se è coperta dal puntino, in questa slide. Lì sotto c'è l'Islanda. E poi invece ci espanderemo in Brasile, in Africa e in Australia. Questo entro il primo trimestre del 2018. Mentre nel 2019 si prevede invece di arrivare al regime, quindi con le 20 antenne. Come dicevo prima, il valore aggiunto del progetto sta proprio nell'offrire un servizio di telecomunicazione. Quindi precedentemente nella tecnologia satellitare standard si offriva l'antenna come mezzo, come infrastruttura e veniva operata dall'operatore, dal proprietario del microsatellite e veniva scaricato il dato utilizzando solo quell'antenna. Attualmente invece noi offriamo abbonamenti mensili in cui si utilizza tutto il network per scaricare i dati da più antenne. Ovviamente appunto mettendo a disposizione tutto il network. Quindi la domanda che appunto viene argomento di questo incontro è sicuramente la start-up e lo spazio. Sono due cose separate. Vi racconto un po' la nostra storia. Molto velocemente, siamo partiti nel 2014. Abbiamo vinto un paio di bandi, tra cui un Horizon 2020 fase 1 con un progetto dedicato, un bando europeo dedicato alle piccole e medie imprese e con questi due bandi siamo riusciti a implementare il primo prototipo, ad aprile del 2016. A luglio del 2016, quindi lo stesso anno, l'anno scorso, abbiamo ricevuto un investimento da un milione di euro che ci ha permesso di strutturare in modo opportuno la società e quindi implementare quelle quattro antenne che ci permetteranno a fine di quest'anno di attivare il servizio commerciale. Abbiamo vinto un altro bando nel frattempo che è il bando Smart & Start di Invitalia e quindi con un totale di investimenti raccolto di circa 2 milioni di euro. Questo vuol dire che anche il mondo finanziario è pronto a ricevere start-up che si occupano e sono nel settore spaziale. Questo è il team dei fondatori, quindi siamo passati da 5 fondatori al team attuale che è più o meno di 15 persone. Queste sono le nostre infrastrutture. Abbiamo un laboratorio dove preassembliamo le antenne per poi spedire il sito di implementazione e invece poi siamo notati di postazioni invece per la parte amministrativa, business e anche per lo sviluppo di software. Quindi in conclusione mi sentirei di rispondere sì assolutamente a questa domanda. Quindi la start-up e lo spazio possono sicuramente convivere e anzi, lavorando nel settore spaziale, nel settore new space, occupandosi di microsatelliti, tecnologia riferita ai microsatelliti, vengono in mente sempre nuove necessità. Quindi sicuramente sono due ambiti che possono convivere, assolutamente. Vi ringrazio, qui c'è il mio contatto, forse dopo c'è tempo per delle domande, quindi forse possiamo rivederci dopo. Grazie.